Penultimo appuntamento all'insegna delle grandi risate per la stagione di prosa Turi Ferro, organizzata da ABC Produzioni, fino a domani al teatro ABC di Catania Lilloo e Greg. La celebre coppia comica porterà in scena il divertentissimo best-of, un frizzante varietà che ripropone tutti i loro più noti cavalli di battaglia, un rimescolamento scoppiettante delle più esilaranti gag, tratte dal loro vastissimo repertorio teatrale, televisivo e radiofonico. Uno show esclusivo ed originale, firmato e diretto dallo stesso duo romano, con tutto il meglio della loro produzione. Musica, sketch, poesie, trailer e i loro personaggi più amati, dal grande capo Estigazzi, tormentone lanciato dalla trasmissione radiofonica 610, a Topolillo e mago Forforella, sino al Sorcio Secco, protagonista della webserie Pupazzo Criminale. Uno spettacolo costruito per regalare al pubblico quasi due ore di puro intrattenimento.